Mi sono chiesta a lungo, amiche e amici, se fosse ancora il caso di parlare del Festival di Sanremo, dopo tutto il cianciare che se n'è fatto. Però resta il momento più importante dell'anno alla televisione italiana, quindi come può una rubrica che di tv si occupa, come può ignorarlo? Quindi sarò breve, pollice alto, per Fiorello valore aggiunto, per la comprovata amicizia tra Fiorello e Amadeus, per l'esibizione delle colleghe giornaliste, ma che brave, per una volta fiera della mia categoria, per le canzoni belle, anche al primo ascolto, canzoni spettacolo, mi ricordavano un po' quelle di Elio e le storie tese, lo spirito da circo equestre con tanto di bestie parlanti, l'abolizione o quasi degli ospiti stranieri, arriva Zucchero, ferma tutti, so, so, solo una sana e consapevole libidine, e che vogliamo di più? Pollice verso, però, per la lunghezza, i cantanti costretti a esibirsi dopo mezzanotte, quasi tutti, si doveva fare spettacolo, certo, si doveva tirare di lungo per poter aumentare lo share, la percentuale di ascolto, era un festival studiato apposta per il web, però in gara dopo mezzanotte, sempre in gara dopo mezzanotte si è. La pubblicità spaventosa, la RAI ha guadagnato e messo fieno in cascina, certo, ma lo spettatore era esasperato, cos'è già che comincia stasera la nuova amica geniale dai libri della Ferrante? Ebbene, vi dirò che mi stantipatica già prima che cominci, tutto grazie al Festival di Sanremo, pensate un po'. Buona settimana da Alessandra Comazzi, Cose di Tele e la Stampa TV.